Ieri una denuncia ai carabinieri e un colloquio in procura. Oggi la richiesta di incontro con prefetto e questore di Salerno. La misura è colma. Si sentono sotto tiro gli ausiliari della sosta che a Sarno sovrintendono alla corretta occupazione delle aree di sosta a pagamento cittadine. Ieri uno di loro è stato aggredito con un'ascia dal familiare di un automobilista che era stato multato qualche giorno prima. Solo l'ultimo di una lunga serie di episodi di intimidazione ai quali dice basta Antonio Nunziata, il direttore di Multiservice, la società di Palma Campania che ha ricevuto in gestione il servizio parcheggio a Sarno. Sono stato anche alla procura dove c'è anche un'inchiesta per le strisce fatte in più e in meno, questa telenovela delle strisce di Sarno. Poi i nostri legali già hanno fatto richiesta di udienza alla sua eccellenza il prefetto di Salerno e anche al questore di Salerno perché noi ci sentiamo abbandonati, abbiamo paura, iniziamo ad avere paura e quindi bisogna che ci sia lo Stato a Sarno perché me ne assumo le responsabilità a Sarno, lo Stato fino ad ora non l'abbiamo visto. Atti vandalici hanno distrutto la macchina con un nostro dipendente ausiliare. Ogni giorno ci vuole manutenzione alla segnaletica perché viene divelta, viene girata. Nei pressi del cimitero non abbiamo mai incassato un euro da quando abbiamo la gestione perché tutti i giorni di notte ci vengono girati i segnali e quindi i nostri operatori non possono operare. È assurdo, macchine in divieto di sosta a centinaia e centinaia quindi non possiamo neppure onorare gli impegni presi in quanto non riusciamo neppure a pagare gli stipendi questo mese perché le strisce blu sono vuote e tutte le macchine sono a doppia fila, a tripla fila in divieto di sosta. Tutto quello che sto dicendo me ne assumo le responsabilità perché sono documentate e abbiamo già più volte fatto le dovute diffide all'amministrazione comunale.